Buongiorno a tutti, quest'oggi vogliamo presentarvi un altro arrivo per il 2023 in realtà parliamo di un modello continuativo della gamma Giant Gravel tra il 2022 e il 2023 e parliamo della Rebolt, modello da gravel con telaio in alluminio abbiamo già visto negli anni scorsi la versione in carbonio qui abbiamo la qualità intrinseca di Giant nel costruire biciclette da un ottimo rapporto qualità prezzo con un ulteriore accenno su un prezzo ultra competitivo con un prodotto molto tecnico in primis abbiamo comunque i freni idraulici GRX400 con doppio rapporto forcella in carbonio, gomme Giant da 38 montate tubeless trasmissione GRX400 a 10 rapporti con la doppia sistema Giant Revolt con la possibilità di avere la doppia applicazione della lunghezza carro tra corto e lungo per poter customizzare la risposta della bici sistema di fuse di sforzamento e vibrazioni integrate nel canotto e quindi tutta la qualità Giant ha un prezzo bomba ultracompetitivo con un altro colore molto acceso rosso ciliegia molto bello esteticamente che vi consiglio da venire a vedere il negozio dal vivo per toccare con mano vi aspettiamo, grazie, ciao